Questo è Minecraft, ma oggi non posso saltare, quindi devo stare molto attento, in particolare a non infilarmi nei buchi, perché se io prendo un pochino di legno, guarda che furbastro che sono, mi posso fare le slab nella scaletta e... Ecco, no, aspetta, vabbè, non è un problema, questo buco non l'avevo visto, però se io adesso mi faccio la crafting table sicuramente posso uscirmene subito da questa situazione. Ecco qui, adesso con questa, guarda un po' che è facile, così, ma che, ma ancora? Ma, vabbè, non è un problema, posso pur sempre scavare. Ok, credo di essermi perso qualcosa, cosa ci faccio? 300 blocchi sottoterra, in una, ho battuto gli occhi, pa, sottoterra, basta, non gioco più.